Come avere 41 anni e non dimostrarli? No, non stiamo parlando di una persona, di un artista, insomma bensì di una canzone. Il suo titolo però è anche quello di una donna di nome Eva. Avrete capito dunque che ci stiamo riferendo a Umberto Tozzi, alla sua hit del 1982, della quale ci occupiamo oggi. Eva è stato ed è anche un album, esattamente l'ottavo di Umberto Tozzi, pubblicato dalla CGD. Il cantautore lo aveva proposto avvalendosi nuovamente e dopo quattro anni della collaborazione di un team di musicisti tutti italiani, tra i quali Walter Calloni alla batteria e Lucio Fabri agli archi. La caratteristica di questo disco è che aveva delle sonorità quasi tecno, dove abbondavano l'uso di synth, così come di drum machine e batterie filtrate. Il suono che ne deriva è stato giudicato da molti come piuttosto freddo. Persino la voce di Tozzi è ripulita e limpida, senza l'uso esasperato dei falsetti, come invece era accaduto nei tre dischi precedenti, tranne che in funzione di coro. I test invece hanno a che fare con quella che era l'attualità del tempo, per esempio i problemi sociali, come la droga nel brano Faccia d'Angelo, o quelli di coppia, come in Lo stare insieme e Chiuso e Pose. La title track Eva invece fu un vero successo in Italia e anche nel mondo, ripresa da molti interpreti internazionali, tradotta anche in varie lingue e conteneva un semplice messaggio d'amore. D'altro canto anche il nome della donna è quello che indica la prima donna, secondo la tradizione biblica. Sullo sfondo però c'è anche uno scenario apocalittico post-atomico. Un uomo e una donna infatti si salvano e ritornano a un nuovo Eden, al paradiso terrestre, grazie ovviamente all'amore, che assume la metafora di un'astronave che torna ad aprirsi come un uovo di eternità, canta appunto l'artista. Il testo è al massimo delle capacità di Giancarlo Bigazzi, con rime che entrano in testa, immagini evocative e anche il giusto tocco di romanticismo che piaceva, piacco soprattutto alle ragazze, ma anche le inquietudini maschili, sempre pronte a salvare la situazione. Sempre a livello di album invece va notato che contiene esperimenti di dance elettronica degli anni 80, in particolare con i brani La testa sui binari e Himalaya, quest'ultimo sulla leggenda dello Yeti. Umberto Tozzi per questo disco scelse di fare uscire l'LP in modo del tutto defilato, insomma senza l'accompagnamento di un tour estivo italiano, tant'è che disertò anche la partecipazione al Festival Bar e a Vota la Voce. In ogni caso e tornando al presente, riascoltare oggi Eva assume anche un nuovo significato alla luce del conflitto in Ucraina che si è trascinato per oltre un anno ormai. Il richiamo alla guerra, ovviamente non voluto al momento dell'uscita del brano per ovvi motivi, oggi lascia un po' di amaro in bocca, ma forse anche la speranza di una rinascita futura, più o meno imminente o almeno lo si auspica da più parti. E allora lasciamo spazio adesso alla musica, quella appunto di Umberto Tozzi della canzone Eva del 1982. Buon ascolto!